Io in quel momento poi ho riflettuto, riguardando alcune fotografie, cosa potesse fare nel 1930-1935-1940, cioè la capacità di… lasciamo stare che quando si doveva vestire, faceva un buco a un tessuto e si metteva in gappe, no, questa praticità, non aveva la necessità di abbellirsi, di truccarsi, di fare, ma la capacità di incontrare le persone e di farsi valere, le donne cominciarono a uscire fuori di casa, grazie a lei, non erano più le donne con questo benedetto tuffo, con queste donne lunghe, hanno avuto il coraggio di far uscire fuori, non lo so se questa libertà le derivasse soltanto dal carattere, credo che ci fosse molto dell'educazione della mamma, quindi questa frequenza in una casa, diciamo, che aveva un senso della libertà diverso, diciamo, un aspetto signorile che le dava qualche garanzia, però il coraggio l'ha avuto di affrontare tutti e quando poi arrivava in piazza, se qualche uomo non parlava più di tanto, insomma, lei non… Grazie! Grazie!